Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Diocesi Informa, con le notizie a cura dell'ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi di Molpetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. È in corso la novena in onore di San Corrado, patrono di Molpetta e della Diocesi, che culminerà con il pontificale del 9 febbraio. Nel frattempo, riti ed eventi sul programma riportato sul sito della Diocesi e luce vita online. Comincia venerdì 2 febbraio la novena in onore della Madonna di Lourdes, con i riti e le celebrazioni in suo onore nelle parrocchie della Diocesi, dove è venerata. Nella stessa giornata, il Vescovo Monsignor Cornacchia terrà un incontro di spiritualità con tutti i religiosi e le religiose della Diocesi presso Casa Betania a Terlizzi alle ore 18.30, in occasione della giornata della vita consacrata. Ricordiamo che sabato 3 febbraio, in occasione della festa di San Biagio, patrono di Ruvo e compatrono della Diocesi, Monsignor Cornacchia presiederà il pontificale alle ore 18.30 nella Concattedrale, a seguire processione per le strade della città dell'Effigie del Santo. A partire dal 3 e 4 febbraio partono i weekend di spiritualità francescana dedicati ai giovani per fornire loro gli strumenti utili per affrontare la lotta spirituale. Si terranno presso la Basilica della Madonna dei Martiri, per informazioni seguire le pagine social Ricerca Vocazionale. Il 3 febbraio, inoltre, primo dei quattro appuntamenti delle officine creative, una proposta dei frati minori per i giovani per vivere insieme un sabato sera all'insegna dell'arte, del cibo e della musica, a partire dalle 20.30 presso la Basilica Madonna dei Martiri. Ulteriori informazioni sulle pagine social POV Francescano. Domenica 4 febbraio, nella 46esima giornata per la vita, l'Ufficio per la Pastorale della Famiglia, in collaborazione con il consultorio diocesano, propongono un incontro a partire dalle 18 con la messa celebrata dal Vescovo presso la Madonna della Rosa in Molpetta e poi una testimonianza dei coniugi Lilli e Leo De Gennaro. Martedì 6 febbraio, la parrocchia Santa Maria della Stella invita all'incontro aperto sul tema La Famiglia Cristiana nella Società Contemporanea. Quale futuro? Con Don Francesco Lanzolla per una riflessione socio-pastorale sulla famiglia attuale. L'evento si terrà alle ore 19. E ora entriamo nel vivo del numero 4 del settimanale Luce e Vita di domenica 4 febbraio. L'editoriale è dedicato a una delle parole chiave del momento nel mondo dei social, Old Money, che indica un atteggiamento giovanile diffuso in questo periodo. A pagina 2 la testimonianza delle suere salesiane di Ruvo, le figlie di Maria Ausiliatrice, che grazie al carisma di Don Bosco ogni giorno dedicano la vita ai giovani. Indetto da Papa Francesco l'anno della preghiera, a pagina 3 il diacono Don Raffaele Bucci ne approfondisce il valore. Le pagine 4 e 5 accolgono il tema della 46esima giornata per la vita. Riportiamo il messaggio dei Vescovi italiani e la prima parte della testimonianza autobiografica di un ragazzo che ha affrontato una tempesta ed è tornato a fiorire. A pagina 6 padre Roberto Francavilla illustra i centenari legati alla figura di San Francesco, in particolare si sofferma su quello delle stimmate. A pagina 7 una riflessione sul momento in cui si disfa il presepe, occasione per riprendere il contatto con l'umanità e la bellezza dello stare insieme tramite il gioco. In ultima pagina la rubrica di spiritualità a cura di padre Roberto Francavilla e l'invito accorato di Don Leonardo Andriani, vice direttore della Caritas diocesana, per promuovere il banco farmaceutico. Sarà possibile donare un farmaco dal 6 al 12 febbraio nelle farmacie che hanno aderito all'iniziativa e che sono riportate sul settimanale. Ricordiamo inoltre che è attivo il canale whatsapp della diocesi, per iscriversi è possibile seguire le indicazioni sul sito della diocesi o inquadrare il QR code in sovrimpressione. Inoltre dal prossimo numero del settimanale luce e vita sarà possibile sfogliare il giornale nella sua versione digitale ogni sabato per una settimana. È ancora possibile rinnovare o attivare l'abbonamento annuale per ricevere il settimanale a casa e avere la possibilità di leggere ogni giorno per un periodo limitato la versione digitale di Avvenire. Grazie per l'attenzione e buona lettura.